ok raga in questo video siamo sempre a Firenze ma non lo metterò nei vlog di Firenze siamo qua con Flavio che è un erpetologo e dici cosa abbiamo trovato mentre facevamo erping questo è un geotritone appenninico, idromantis italicus, vive esclusivamente da Lucca a Rieti lungo l'appennino e in questa bella location, potete vedere anche la chiesa di sottofondo quest'animaletto non ha polmoni, respira attraverso la pelle, il rino faringe depongono le uova negli anfratti come quel muro, umidi, da cui nascono piccoli già perfettamente formati da autonomi si nutre di insetti e avendo il rostro verso l'altro si capisce che è un maschio sono inoffensivi e completamente legati all'umidità non è una specie minacciata ma è una specie relativamente comune ma pochi conoscono questo luogo perché è molto vicino alla città siamo a una decina di chilometri da Firenze che è una delle città più importanti dell'Italia centrale eppure guardate che meraviglia abbiamo la nostra Silvietta l'ha potuto trovare, l'ha vista lei per primo mette a fuoco così vicino? va bene, direi che adesso andiamo a rilasciarlo dove l'abbiamo trovato ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi mettete mi piace al canale di Polpia a rowi